Ho il dovere e il piacere di portare i saluti di mio suocero Donato Formisano, che poco fa ho sentito al telefono e mi ha detto di salutarvi tutti dal profondo del cuore. Ho il piacere e il dovere di portare i saluti di mia moglie Donatella, che è con mio suocero, come voi sapete. Grazie. Cara Rosaria, a nome di tutti c'è un piccolo omaggio floreale per te, tradizione della Virtus. Siamo qui con il direttore della Banca Popolare del Cassinate. Allora, direttore, quanto sono importanti questi momenti di aggregazione, soprattutto per un uomo così importante e un imprenditore così importante nel Cassinate? Onofrio Formisano. Siamo giunti alla quinta edizione di questo Memorial. Com'è bello vedere tutti quanti questi bambini che fanno un così bello sport? Senti, io stasera ho partecipato, come voi ben sapete, in sostituzione del Presidente della Banca Popolare del Cassinate, che è proprio il fratello del signor Formisano Onofrio, oramai defunto da qualche tempo. Io sono particolarmente contento stasera di aver partecipato al Memorial, alla quinta edizione del Memorial, non solo perché mi legava con il fratello del Presidente, quindi con Onofrio, da un'amicizia profonda, ma era più che altro dettata questa amicizia da un rispetto quasi reciproco. Certe volte ci guardavamo, ma sappiamo già quello che dovevamo in un certo senso dire. Quindi questa sera sono stato particolarmente contento, sono stato particolarmente contento di ricordare lui e di ricordare naturalmente quando era ancora tra di noi. È stato un uomo, come ho detto prima, da doti personali molto ma molto elevato, un imprenditore capace che ha dato, oggi si dice, da mangiare a parecchie famiglie qui a Cassino. È stato un capo famiglia come lo si era una volta, quelle famiglie di una volta patriarcali. ed è, come ho detto, poco anzi un grande stimatore del basket, un grande stimatore però a dire la verità di tutti gli sport che si possono immaginare. Quando c'era qualche manifestazione di sport c'era sempre Onofrio Formisano. Interesse per tutti gli sport da parte di Onofrio Formisano, lo stesso che ha, la stessa attenzione che ha la banca su tutto il territorio, siete al fianco di tante società sportive e quanto è importante questa attività della banca appunto del sociale? Da noi ci siamo proposti, sì, da quando ci siamo costituiti, quindi già da oltre 60 anni, che è quella di mettersi al servizio del proprio territorio. Ma io lo dico con grandissima soddisfazione perché, diciamo, questa attività si è intensificata, specialmente in questi ultimi 6-7 anni dove mi hanno visto come direttore e prima anche come vice direttore della banca. Questo nuovo modo di fare banca, noi lo abbiamo detto, significa appunto essere anche vicino a tutte le varie attività a livello locale, non soltanto sportive, ricreative, ma specialmente culturali e sociali. Dove c'è una qualsiasi attività, voi lo avete ben potuto constatare, c'è la Banca Popolare del Cassinato.